Buongiorno e bentornati su TCS Telecosa Smeralda, il mega ci sono sempre due argomenti soprattutto per quanto riguarda il turismo e il nostro magazine che ricorrono continuità territoriale, balneazione, imprenditori appunto di questo settore beh la stagione per questi ultimi sembrerebbe salva Sentenza dopo sentenza i tribunali amministrativi stanno mettendo mano al settore delle concessioni balneari in attesa di una legge che ancora non c'è Dopo la clamorosa sentenza del Consiglio di Stato che in realtà ha sorpreso solo i non addetti ai lavori ora arriva anche il pronunciamento del TAR di Bari che ha riconosciuto la validità di una proroga al 2033 della concessione di un privato che vedendosela decadere si era rivolto ai giudici La sentenza del Consiglio di Stato lungi dall'essere un fulmine a ciel sereno offre invece materia su cui discutere La situazione è chiara da un punto di vista giurisprudenziale, non è per niente chiara ed è gravissimo questo fatto da un punto di vista normativo cioè la politica è totalmente assente, la politica nazionale è totalmente assente in relazione a questo annoso problema c'è un vuoto pneumatico della politica nazionale dal 2010 ad oggi e il problema sarebbe stato risolvibile con estrema facilità nei primi anni in cui si è presentato oggi si è avvitato su se stesso ed è diventato un enorme problema, un enorme matassa Da una parte si ritiene infatti che le proreghe delle concessioni balneari siano illegittime dall'altra però si sancisce che non esistendo scarsità della risorsa non è obbligatorio applicare la direttiva Bolkenstein che si basa proprio su questa condizione Da giorni si discute delle conseguenze di questa sentenza l'ennesima sul punto e su un settore che da ormai anni vive nello stato di incertezza In Sardegna le concessioni sono state prorogate con una disposizione di tipo tecnico In Sardegna la situazione è un pochino più tranquilla se vogliamo definirla così perché la regione nel febbraio scorso ha adottato una delibera che consente sulla base della legge sulla concorrenza denominata legge Draghi ha deliberato e decretato quindi una proroga squisitamente tecnica con anche un cronoprogramma di previsione per le evidenze pubbliche e quindi per questo motivo inattaccabile Diciamo che c'è stato probabilmente un eccesso di zelo probabilmente nella interpretazione della delibera da parte della direzione generale degli enti locali ma sulla quale stiamo adottando le necessarie contromisure Stagione salva dunque, imprenditori della balneazione pronti ad aprire ombrelloni a Esdraio e servizi in spiaggia garantiti per i bagnanti ma senza modernamenti di sorta, certo, non c'è voglia di investire in una situazione così incerta I bagnanti e i turisti soprattutto possono stare tranquilli la stagione 2024 in Sardegna si svolgerà regolarmente magari non con attrezzature nuovissime magari non con gli ultimi ritrovati della scienza e della tecnica perché nessuno in questa situazione investe più e questa è una cosa gravissima La sentenza del Consiglio di Stato però ha chiarito un altro punto importante chiunque sopravvenga ad una concessione già esistente dovrà, a chi l'ha gestita in precedenza, un eco indennizzo ora quando la stagione sarà chiusa si discuterà su come calcolare tale quota ma intanto il principio è sancito e ciò tranquillizza e non poco gli attuali titolari di concessione Questa sentenza, a differenza di quanto è stata analizzata, invece è positiva perché mette un paletto che è quello del risarcimento per chi ha gestito quindi se uno vuole partecipare a una gara deve essersi un risarcimento stabilito e allora può anche prendere il posto del gestore che è la gestore, questo mette questo paletto che era fondamentale che invece la sezione plenaria del Consiglio di Stato non aveva preso in considerazione Tante la necessità di un intervento nazionale il sindacato chiede anche alla giunta regionale Sarda di fare la sua parte C'è da anche fare una considerazione relativamente al principio dell'insularità se non si deve applicare in questo caso, in quali casi deve essere applicato quindi chiediamo alla regione un maggiore sforzo, uno scatto di orgoglio in questo senso Due numeri e una conferma, 200 imbarcazioni presenti, 156 operatori la consapevolezza, la conferma che Olbia è sempre più centrale in quel turismo della nautica Si è conclusa la terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna nella Marina di Porto Rotondo L'evento ha registrato un notevole incremento rispetto all'edizione precedente Tra i protagonisti diversi, i brand prestigiosi del mondo della nautica nazionale e internazionale L'edizione 2024 ha dedicato particolare attenzione alla tutela del mare con un intero settore espositivo dedicato all'ambiente marino e alle innovazioni tecnologiche un tema di grande importanza per gli organizzatori che hanno voluto sottolineare l'impegno del settore nautico nella salvaguardia degli ecosistemi marini Diversi i talk durante le 5 giornate Tra questi uno incentrato sul turismo nautico in Sardegna, opportunità di sviluppo Durante l'intervento dell'assessore regionale del turismo si è parlato dell'importanza della rete dei porti La regione Sardegna potrebbe e ha delle specificità e quindi la rete dei porti era nata proprio per rappresentare gli interessi della Sardegna rispetto alle istituzioni regionali ma anche quella di fare, di aggregare l'offerta perché di fatto la Sardegna non si è mai presentata in maniera unitaria non solo non davamo valore ma ci svendevamo ecco quindi aggregare l'offerta e poi aggregare l'offerta non solo della Sardegna ma anche quella della Corsica favorendo la costituzione dell'UPPC l'Union Porte de Plaisance des Corses presiuto dall'amico Jean Thomas ha consentito e qui veniamo agli aspetti positivi di aggregare un'offerta di un bacino di navigazione sardo-corso che è divenuta negli anni la prima destinazione mondiale per la nautica di eccellenza per i maxi e i gigaiot si calcola che delle 100 barche più grandi più costose al mondo almeno 75 ogni anno facciano tappa in uno dei nostri porti tra Sud Corsica, Nord Sardegna, Gallura ma non solo adesso stai iniziando anche a circuitare quindi un primato mondiale al quale ci teniamo ma diciamo che discende anche un po' dalla geografia io ogni giorni scorsi ho presentato una proposta di legge che non riguarda esattamente questo settore che era relativa alla macro regione dell'Europa lo cito solo per fare un esempio di tipo geografico la Sardegna è centrale nel Mediterraneo geograficamente ma è periferica rispetto all'Europa e rispetto sicuramente all'Italia è una periferia geografica ma è anche una periferia politica e istituzionale insomma si conta poco si ha i margini però se il discorso lo limitiamo alla navigazione nel Mediterraneo riacquisiamo centralità se il discorso lo limitiamo ai rapporti e quindi disegniamo un quadrante una macro regione che riguardi Spagna, Francia, Italia magari Tunisia, Marocco ed Algeria allora diventa centrale non solo la Sardegna ma anche la Corsica ma anche le Baleari che guarda caso tra le tante macro regioni che sono state istituite in Europa sono quattro quelle istituite questa sarebbe la quinta se dovesse nascere se sono strumenti previsti dall'Unione Europea avrebbe una centralità un cuore fatto da isole che hanno comuni problematiche Capitolo turismo e imprese e social network il 55.7% delle imprese Sarde usa i nuovi media di comunicazioni ci sono ci sono le piattaforme digitali ormai ogni giorno qualcuna sbuche in rete e di conseguenza sul telefonino ci sono poi i media nuovi di comunicazione che hanno rivoluzionato la quotidianità di ognuno di noi Facebook Instagram TikTok Be Real Twitter meglio X e ancora Snapchat Pinterest Reddit Tumblr e chi più ne ha più ne metta loro i social network vivono con noi eppure con le aziende con tutto il mondo del lavoro anzi il lavoro è cambiato grazie o per colpa loro e allora ecco che la prima statistica racconta che più del 55% delle imprese Sarde utilizza questi strumenti più della metà insomma anche perché le aziende oggi hanno sempre più necessità di conquistare la fiducia dei loro pubblici e lo fanno raccontandosi non semplicemente facendo pubblicità ma c'è proprio l'esigenza di raccontare chi sono in quali valori credono come si comportano nei confronti della società se sono sostenibili che scelte fanno perché questo sta diventando soprattutto rispetto alle nuove generazioni un fattore fondamentale rispetto alle loro possibilità di successo già il successo è l'altra faccia della medaglia ovvero poche davvero poche imprese riescono a sfruttare al meglio le enormi le infinite possibilità che questi strumenti nuovi offrono pensate solo all'industria del turismo dell'isola solo in questi ultimi anni ha investito e promosso chi l'azienda e dunque la bellezza della regione la nostra sui social industria turismo servizi alberghi o affittacamere o bed and breakfast l'intrattenimento e la ristorazione poco importa il focus il centro l'obiettivo è e rimane il marketing territoriale ecco perché sempre più aziende si inseriscono nella comunicazione dei canali social che sono i media che più di altri in maniera semplice disintermediata e con un effetto di immediatezza possono raggiungere questi pubblici consentendo anche uno scambio con loro non soltanto quindi una comunicazione unidirezionale che può essere raggiunta anche con altri media ma un dialogo con i propri customer riepiloghiamo in Sardegna il 55,7% delle micro piccole e medie imprese fa uso dei social network primo fatto anzi una notizia certificata nero su bianco dall'analisi realizzata dall'ufficio studi di compartigianato imprese Sardegna sui dati dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni insomma alla fine questi social se utilizzati e coordinati da profili competenti diventano unici e quante volte abbiamo ragionato sul turismo sportivo c'è anche il turismo legato ai cavalli un grandissimo appuntamento si è svolto nel fine settimana e forse il più importante della Sardegna più di 200 le iscrizioni oltre 600 i binomi in gara per la seconda edizione del concorso ipico nazionale città di Cagliari il più atteso appuntamento equestre del capoluogo che ha catalizzato l'attenzione delle più importanti scuderie dell'isola l'evento in tre giornate è stato ospitato nel campo ostacoli del comprensorio polisportivo militare dedicato al generale Gastone Rossi organizzato dal centro ipico militare del comando militare esercito Sardegna in collaborazione con il comitato regionale Sardegna della federazione italiana sport equestri il comitato locale dell'associazione nazionale arma di cavalleria e dall'assessorato regionale dello sport ormai è da tre anni che questa manifestazione ha luogo grazie a un impegno sinergico e fruttuoso del comando militare esercito della Sardegna della regione autonoma della Sardegna che ci ha dato un cospicuo finanziamento di 60.000 euro per ogni giornata e dell'associazione nazionale arma di cavalleria che fa da supporto e di collante delle due organizzazioni istituzionali è importantissimo il numero dei binomi iscritti siamo circa 200 binomi in gara 200 binomi per ogni giornata di gara e quindi sono 600 percorsi una manifestazione che ha richiamato più di 5.000 spettatori sugli spalti dove hanno potuto godere di uno spettacolo unico offerto dai migliori cavalieri sardi e dagli esemplari più belli di cavalli provenienti dagli allevamenti dell'isola che si sono misurati sui percorsi di saltostacoli nel campo in erba per aggiudicarsi gli importanti montepremi messi in palio il turismo è questo è un aspetto che sta prendendo molto piede infatti come federazione noi abbiamo il nostro reparto di equitazione di campagna perché siamo cose che stiamo sviluppando e stiamo approfondendo perché è una cosa che in Sardegna si sposa benissimo perché il turismo unito al cavallo è proprio il connubio ideale la competizione più prestigiosa la categoria C 140 a due manche è stata vinta da Gian Leonardo Murruzzu ma nell'ambito della manifestazione sportiva sono stati anche selezionati i binomi che parteciperanno alla Coppa delle Regioni in programma a Roma durante il 91esimo concorso ipico internazionale ufficiale Piazza di Siena 2024 il concorso internazionale di Piazza di Siena diciamo che è il più importante concorso ipico che si svolge nella nazione noi abbiamo un patrimonio di cavalli importantissimo consideriamo che l'80% dei cavalli sportivi nasce in Sardegna questa è una vetrina sia per i cavalieri che per tutto l'indotto che gira intorno all'equitazione quindi produzione di puledri vendita di cavalli e quant'altro vogliamo bene termino qua vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine per chi non c'era c'è il sito tcs.tv grazie